Buon pomeriggio a tutti ed eccomi qui per chiarire l'argomento Chris e Sintol visto che molti di voi non siete riusciti ad interpretare bene il video e Chris ci ha fatto questa dichiarazione di aver strappato il bicipite quindi procediamo per step voi dovete capire che il mio obiettivo con quel video lì era semplicemente esporvi un lato del bodybuilding ma non infangare il bodybuilding o l'atleta di per sé sappiamo che questa è una realtà così come il doping, vabbè la scoperta dell'acqua calda ma il mio obiettivo non era in alcun modo sminuire i sacrifici degli atleti ma semplicemente fare luce su quale direzione il bodybuilding sta andando una direzione che a me particolarmente non piace ma sono scelte, sono scelte e sono gusti quindi iniziamo con il fatto del perché abbia buttato i fari su Chris Bustard cercherò non di giustificarmi ma farvi vedere dal mio punto di vista il perché ho avuto quel pensiero lì iniziamo da qui dove già riusciamo a vedere un bicipite estremamente infiammato e con poche definizioni ma prima che mi attacchiate vi voglio solo far capire una cosa in tutto il mondo se ne è parlato tutti, anche preparatori estremamente conosciuti hanno fatto delle battutine per quanto riguarda il bicipite di Chris Bustard e adesso vediamo insieme e giusto per farvi capire e vedere come non sono stato l'unico qui in questo podcast abbiamo quattro persone molto importanti che contano tanto nel mondo del bodybuilding qui abbiamo Fabrizio Pascioloc quindi l'attuale allenatore di Ramondino qui abbiamo Giulio Balestrin che è un bodybuilder storico del Brasile e coach poi dopo di che qui abbiamo Ramon e qui abbiamo Horse che è un caro amico di Ramon e lo vedrete l'anno prossimo spuntare tra i pro calma, ora ascoltiamo bene cosa hanno detto vorrei fare i miei complimenti a Cibum che è riuscito a portare dei miglioramenti pazzeschi e tutti concordano sotto questo aspetto qui dicono non solo la qualità di pelle i glutei è riuscito a migliorare anche le braccia tutto questo dopo il Mister Olimpia Ramon lì già aveva ricevuto la medaglia Giulio Balestrin dice per quanto riguarda le braccia ho qualche dubbio e in questo momento vediamo Horse che già fa una risatina come per dire come mai qui un po' tutti annuiscono, ridono, ride questo è l'allenatore di Ramon, ride pure Ramon ride guarda ride e lui qui in questo momento dice solitamente quando ha una lesione il muscolo si accorcia non si allunga questa è un'osservazione non indifferente Ramon che ride tutto il tempo lui che in questo momento dice eh sì effettivamente lui qualcosina alle braccia ha fatto sicuramente lui ha usato un po' i codici di GTA come per dire qualcosina ha fatto e qui in questo momento Ramon dimostra il perché ha tutta la mia stima questo ragazzo veramente è molto molto umile cambia del tutto argomento dice proprio cambiamo argomento indico una cosa e dici dai smettiamo di parlare di questo perché vabbè è fatto così Ramon quindi per farvi capire la mia teoria non è che io sono uscito così sono spuntato dall'uovo di Pasqua ho detto ah Chris Buster ha usato Sintor già girava voce poi tra l'altro da molti anni gira voce ma poi io forse ho usato la parola sbagliata Sintor quando poi in realtà ci sono tante altre sostanze che possono iniettarsi nei muscoli per aumentare il volume Sintor è semplicemente quella più conosciuta per farvi capire l'idea ma questa è quindi ora ora tutti quelli che mi stanno attaccando la mia domanda è in realtà non è nemmeno una domanda è una affermazione ecco perché in Italia noi siamo nel medioevo e quasi quasi ci meritiamo questo medioevo perché non si può parlare di assolutamente niente non si può dire niente quando in realtà in tutto il mondo tutti hanno messo in dubbio i biciplici di Chris Buster però io sono l'unico sbagliato io ho sbagliato perché sono stato l'unico in Italia a dirlo quindi c'è una cosa da far capire nessuno nessuno saprà mai la verità solo lui e Henry Rimbaud il suo allenatore ma nessuno ma puoi prendere tutti gli atleti coach professionisti ognuno ha i suoi metodi e ci sarà sempre il dubbio ora vi faccio vedere un altro esempio per quanto riguarda Dexter Jackson noi qui abbiamo Dexter Jackson fateci caso ai suoi polpacci guarda qua che bel polpaccio Dexter Jackson che è uno dei fisici più simmetrici estetici della storia del bodybuilding però guardate qui polpacci ora guarda caso cosa succede ai suoi polpacci spariti in sintesi pare che si sono messi qui davanti la parte superiore è sempre nettamente ottima però guarda la differenza con polpaccio senza polpaccio questo vi fa capire come a lungo andare il fatto di impiantare mettere delle protesi o anche fare uso di altre sostanze va a peggiorare quel gruppo muscolare che era già carente e guardate qui vi faccio vedere un'altra differenza quindi per farvi capire i miei ma non solo i miei dubbi riguardo il bicipite di Chris erano dubbi ben fondati dove qui abbiamo un bicipite perfetto qui no abbiamo un ammasso di infiammazioni anche qui qui abbiamo la stessa identica cosa dove si vede guarda la differenza come qui effettivamente c'è stato qualche errore per quanto riguarda la gestione pregara di questo punto carente Dexter che è conosciuto per avere un dei fisici più simmetrici della storia probabilmente ha cercato di aggiustare di qualche centimetro questo punto qui e non c'è riuscito per niente qui abbiamo in un altro video tutto molto più chiaro polpaccio non polpaccio muscolo netalmente peggiorato come mai come mai è semplice la risposta la sapete già vi faccio vedere un altro esempio chiaro guardate qui il polpaccio ormai non ha alcun disegno e ora se vediamo qualche anno indietro fateci caso al volume che c'era qui c'è una differenza abissale vi ripeto questo video non è per sminuire i sacrifici dei atleti come realmente funziona il mondo del bodybuilding agonistico tutto qua e ora qui ci tengo a farvi vedere una cosa molto interessante che se ne parla in tutto il mondo ma ovviamente qui no verrò attaccato anche per questo probabilmente molti bodybuilder pittano per evidenziare la forma dei muscoli eh sì sì e il signor Adi Chopin questo ha fatto noi qui abbiamo un esempio chiaro per farvi vedere come un muscolo disegnato con delle ombreggiature nei punti giusti sembra molto più tirato rispetto a quello che effettivamente sia qui abbiamo un esempio di come erano i fisici negli anni 90 senza alcuna ombreggiatura e qui se cerchiamo Adi Chopin riusciamo a vedere come in alcuni punti sia tutto leggermente più scuro ed ombreggiato rispetto ad altri e la stessa cosa vediamo con Chris Bansett che ha un deltoide molto ben disegnato con delle ombreggiature nei punti giusti per riuscire ad evidenziare il suo tiraggio ovviamente questo non è un qualcosa di illegale che va contro lo sporto di anti-etico però è solo per farvi capire come questo è comunque un gioco di illusioni dove si cerca di sembrare più di quel che effettivamente sia ovviamente qui stiamo parlando di Chris Bansett un atleta mostruoso tra l'altro il mio atleta preferito però ci tengo a dirvi una cosa dovete sapere distinguere le due cose perché ci sono tanti fanboy di Chris che mi attaccano quando poi in realtà io sono semplicemente qui riportando i fatti ma ci sono dei fanatici in questo mondo terribile che guardano l'atleta quasi come una religione questo atleta non può assolutamente essere attaccato che è quasi come se io stessi insultando la loro madre non è assolutamente così cioè qui vi sto semplicemente facendo vedere come alcuni atleti con un giusto gioco di ombreggiature in alcuni punti riescono ad evidenziare il loro tiraggio più o meno come è stato fatto con i 300 quel film sì l'addome dei protagonisti è stato disegnato e per riuscire ad evidenziare un tiraggio che loro non avevano attenzione non sto dicendo che è quello che ha fatto Chris Bansett ma semplicemente che è una strategia molto utilizzata dal 2008 in poi già da tantissimi atleti per riuscire ad evidenziare alcuni punti e qui abbiamo un altro paragone dall'anno scorso a quest'anno per quanto riguarda i bicipiti di Chris quindi vi ripeto ragazzuoli non sono qui per fare like infangando il mondo del bodybuilding ma semplicemente per cercare di portare altri contenuti che attualmente in Italia scarseggiano vi ripeto Chris è il mio atleta preferito cioè non so più come dirvelo quindi a tutti i fanboy di Chris Bansett potete anche smetterla di attaccarmi perché semplicemente dimostrate un po' la vostra immaturità i bodybuilding noi dobbiamo affrontare con praticità e con obiettività se si fa un qualcosa dobbiamo far vedere quello che si fa semplicemente per fare chiarezza per creare informazioni ma questo non sminuisce assolutamente l'atleta che è Chris che poi tra l'altro in questo video ci ha fatto vedere un po' come ha gestito tutto il pre-gara e anche la gara con il bicipite strappato cosa non facile soprattutto a livello psicologico dove racconta che lui era molto insicuro tutto il tempo si guardava il bicipite e aveva molta paura che si notasse però alla fine dei conti il suo fisico era talmente perfetto che il bicipite è entrato in secondo piano spero vi sia piaciuto questo video spero di non dover farne altri video per cercare di giustificarmi semplicemente perché il video viene interpretato male quindi ricordatevi il problema dei social è semplicemente questo se prendete un singolo video decontestualizzate quel video riuscirete ad attaccare qualsiasi persona cercate di contestualizzare il video in quel video lì dove vi faccio vedere quel che alcuni atleti hanno fatto secondo me posso dire di aver indovinato il 90% dei atleti ma semplicemente perché quello è un dato di fatto Chris c'era qualcosa di sospetto o era un bicipite strappato o era un accumulo di iniezioni che può essere sintol olio acido anionico insomma tante cose ma ve lo ripeto questo non sminuisce assolutamente l'atleta che è spero vi sia piaciuto questo video